Vorrei chiedere una cosa, però tradotta perché non riesco. Ha parlato del lavoro interiore prima. È possibile dire che il lavoro interiore è completamente libero da qualsiasi forma esteriore, quindi anche religiosa? E quindi sia sempre lo stesso, perché è sempre la stessa la composizione interiore dell'uomo. Perché la composizione interiore è sempre la stessa. Sì, possiamo dire che. Il corpo interiore non ha senso. Non ha senso. Ma la tua mente ha identificazioni. E questo appartiene molto al lavoro interiore. Contra la mente appariamo allo stesso modo, siamo un corpo. Quello che ci separa l'uno dall'altro è solo la mente. Niente di più. Se vai oltre la mente. Che significa andare oltre le lingue. Se incontri una persona che è aperta nel cuore. E senti che puoi condividere. Senti che puoi condividere. Non puoi condividere filosofie, ma il gusto, il sapore, sì. Puoi condividere questo sapore comune. Che è molto bello da condividere. Molto soddisfazione. Senti che l'altro è nella stessa percezione. Questo ci dà tanta felicità. Ma, siccome ancora hai la mente, ci sono cose che devi guardare. Ci sono cose che devi guardare. E hanno a che fare con le forme. E hanno a che fare con le forme. E hanno a che fare con le forme. E dobbiamo essere d'accordo su certe regole. Il mondo spirituale ha delle regole. E non è una zona libera. E' una zona libera. E' una zona libera. Questo mondo è quello più libero. E non hai tanti problemi. Nel mondo spirituale, se fai un errore, hai una risposta immediata. Nel momento. E questo è, se vai fuori da lì. O se hai fatto un errore, e si aspettano che lo sappiano, allora diciamo che questo è un problema. Qui non puoi quasi avere problemi. Dall'altra parte si può avere problemi. perché non andresti là senza consapevolezza. Può accadere a volte. E' molto raro. E qualcuno, per caso, viene trasportato da qualche parte. E fa degli errori. Ma non capiscono. Se ci arrivi per conoscenza. se ci arrivi per una cosa divina. E' uno scherzo divino. Ok. Le regole sono molto importanti. e le regole che vedi nel mondo religioso sono molto simili a quelle che sono nel mondo spirituale. Il peccato è una distorsione. Non è tanto una cosa morale. È solo una distorsione. Come se ci fosse un suono, per esempio. E quello ti porta via tutto il sapore che hai. E in questo modo il peccato distorce la tua vita. Se ad esempio menti. Non è una buona idea. o se fai cose che sono di beneficio per te. Rubare. Violenza. Envy. Jealousia. Pride. Lust. E' una cosa che ho scritto da miliardi di anni fa. Mi dispiace. E' una cosa che ho scritto da miliardi di anni fa. Perché né noi pensi. Ma sono realtà. Ma sono vele. Ma sono dei veli. E' una cosa che ho scritto da miliardi di chiara. E sono dei veli. E' così. E' così. E' questa cosa che hai. E per esempio una cosa che diceva. Che qualcosa van ada un servizio. Che cosaentiale dovese ma non poi sentì collegesi. E' uno ha invidia e nonona un profeta. Eccolo a tutti. Se siete troppo invedia in�ซio o sei il tuo tema orino È molto brutto. L'invidia è un brutto vedi. La gelosia è anche una gran poesia. La strada è difficile. Una volta sono stato trattenuto nella prostrazione perché ho bussato la porta con orgoglio. E' stato una pessima idea. E' meglio non provare. Quindi l'educazione nel mondo spirituale è dura. Più dura. Più dura. Più diretta. Più forte. Più forte. E' quello che abbiamo qua. E' quello che Molana dice sempre. C'è una scuola qua. E' la più facile. E' la più facile. Cerca di imparare ora. Grazie per la vostra bella attenzione. Mi dà molto piacere essere con voi. In questo giorno perfetto. È perfetto. È perfetto. Grazie. 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 Grazie.